L'attesa che i nostri chitarrai cambino le loro tonalità di chitarra guardando per chi non ci ricordiamo e con l'aiuto anche del nostro mitico batterista ci aiuta Ok, ok, il prossimo pezzo, un pezzo nostro Sì, sì, aspettiamo mentre si sta Lo dedichiamo in particolare a un cantante a cui io sono particolarmente legato un cantante di un gruppo che si chiamano Gotthard è un gruppo svizzero e il loro cantante è morto il 2 di ottobre e noi, pur non esserlo, non lo sanno, cioè almeno io personalmente avvisionarmi anche minimamente a lui però credo che sia stata un modo che mi ha dato la spinta per provare così, per divertimento a cantare il suo nome era Stimli e niente, lo dedichiamo a lui sperando che in questo momento ci stia guardando Benvenuto a Show to the Sky 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 Grazie 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì.